Ehm, se puoi pronti? Pronto? Pronto mi senti? Pronto? Pronto? Mi senti? Dimmi. Eh, ciao, io faccio la seconda elementare e mi ha detto la maestra che mi serviva un libro, però io non lo riesco a trovare, questo libro. Non lo abbiamo, libri di scuola elementare non ne abbiamo. Eh, no, ha detto che lo posso trovare in una qualsiasi libreria, perciò io oggi ho preso le pagine, c'è l'ho scritto università. Non ce l'ho fatto di male. Eh? Mi pare. No, è un'altra libreria, perché qui non ce l'abbiamo. È un nome, sta scritto Kamasutra, mi pare. No, non ce l'abbiamo, neanche quello, libri di scuola elementare. Non so che posizioni faccia, ha detto che è tipo una cosa in missionario, non mi ricordo bene. No, 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 va denunciato questo personaggio. Eh, e come lo faccio a denunciare? Non lo so, io non lo so. Che libro prendo? Ci sta un libro come denunciare? No, non ne abbiamo. Non ce l'avete neanche un libro? No, per denunciare no, no, no. Eh, eh, non ce l'avete neanche un libro in questa libreria? No, di questo tipo no. Ma il tuo nome qual è? Io mi chiedo Elisabetta Mariaci e faccio la seconda di me. Però io, io, buono, io mi faccio i compiti, quello mi strida il professore. No, ma non ti preoccupare, non ti dice niente. No, eh, l'altro giorno a scuola sono andata senza febbra, mi dimmi che c'avevo la febbre generale. No, non fare così, non ti dice niente, non ti dice niente. C'avevo la febbre generale, mi ha preso la, una cosa, la frusta, e mi ha frustato sul culetto. Mamma mia, va bene, mi dispiace moltissimo. Eh, che dobbiamo fare? Mi speriamo? Sì, niente, io chiamo un'altra libreria, purtroppo noi non possiamo aiutare. Ok. Va bene. Grazie. Ciao, ciao, ciao.